CNU 2018, giorno 7. Gioia e dolori per il Cus Milano in una giornata ricca di emozioni. Il volle femminile di Cocciosi perde 3-0 contro Cus Bologna in una finale a senso unico. Primo set combattuto per le ragazze in maglia bianca che si arrendono all'avversaria nel secondo e nel terzo set. Esito diverso invece per il basket maschile che vede la squadra di Cocci Ingo Fingelberg accedere alla finale di sabato 26 maggio. I ragazzi in maglia bianca vanno sotto nel primo quarto per poi rimontare e dilagare nel secondo tempo. Colpo grosso invece per la squadra di David Frisini che al pala Unimol sotto 2-0 contro Cus Catania vince 3-2 in una finale al Cardiopalma. I ragazzi in maglia bianca trascinati da un tifo incredibile sugli spalti si rendono protagonisti di una prestazione da incorniciare.